Buongiorno a tutti gli spettatori Mi trovo con un atleta dell'ASD Alba Bralanghero Ero Ci stiamo dirigendo verso Oglie dove oggi correranno la prima gara ad Allievi Allora Matteo, come ti senti prima di questo appuntamento così importante? Molto bene, solo per il tempo, facciamo vedere il tempo Sì, adesso in questo momento sta piovendo E speriamo che smetta perché altrimenti sarà brutto Le condizioni dell'asfalto saranno peggiori? Peggiori, ci saranno possibilità di cadute Quindi maggiore attenzione nelle curve E tutto Come pensi di interpretare questa gara? Ma non lo so, essendo la prima gara pensavo di stare coperto e aspettare Stare a guardare insomma, restare passivi nelle retrovie del gruppo e poi eventualmente uscire nel finale In casa di fuga, cerchiamo di esserci e... e boh poi... Facci un pronostico secco, un nome secco per questa... Un nome secco... eh non lo so... Non lo so, bisogna avere la classifica sotto mano... Noi ti facciamo un in bocca al lupo Crepi, grazie anche a voi eh Ciao